Ad appena una settimana dall'ultima rivolta si sono verificati nuovi disordini nel carcere minorile Beccaria di Milano, dove due fratelli di 16 e 17 anni sono evasi ieri nel primo pomeriggio e un terzo detenuto è scappato in serata, probabilmente approfittando della confusione che si era creata. I due fratelli, di origine egiziana e inseriti nel gruppo avanzato, pare fossero tra i promotori della rivolta scoppiata allo scorso weekend, quando dopo aver appiccato alcuni incenti si era scatenato il caos, otto detenuti erano rimasti feriti e altri quattro avevano tentato la fuga. Le ricerche sono in corso, mentre da oggi è previsto l'avvicendamento del comandante del contingente di polizia penitenziaria e l'arrivo di un'unità di sostegno agli agenti e al personale, un cambiamento che suscita reazioni differenti tra i sindacati. Per il SAP è una decisione corretta che forse porterà finalmente a una svolta. Wilpa Polizia Penitenziaria e NFP, Associazione dei Dirigenti della Polizia Penitenziaria, esprimono invece solidarietà a Daniele Alborghetti, che rappresenterebbe un capro espiatorio, mentre le cause del disastro del Beccaria, come della gran parte degli istituti penali per minorenni del paese, sarebbero da ricercare altrove.